L'acquisto di un immobile all'asta può essere un ottimo affare, ma non è per tutti. Acquistare un immobile all'asta può rivelarsi una fonte di problemi se non si presta attenzione ad alcuni punti fondamentali. Stato di occupazione e tempi di consegna. Nessuna garanzia da vizi o difetti. Eventuali abusi edilizzi. Nel caso di immobile già libero per la procedura, ma ancora occupato, senza alcun titolo, i tempi di rilascio possono essere lunghissimi, anche fino a due anni. In caso di immobile già libero, considerando tutti gli adempimenti burocratici, si arriva mediamente a 3-4 mesi dopo il pagamento del saldo. L'acquisto all'asta non garantisce da vizi o difetti, anche se non evidenziati in prezzi. Una volta acquistato l'immobile, infatti, non sarà più possibile chiedere alcun risarcimento, riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, l'annullamento della vendita. Come invece avviene nel libero mercato. L'acquirente dovrà prestare massima attenzione alla presenza di eventuali abusi edilizi. A volte sarebbe meglio demolire e ripristinare lo stato originario, ma con costi e diminuzione del valore dell'immobile. In sostanza, per fare un buon acquisto è necessario avere una grande esperienza nel settore e conoscere il mercato immobiliare, la normativa urbanistica, le procedure di liberazione, i costi di ristrutturazione. È per questo che noi accompagniamo tutti i nostri clienti alla visita dell'immobile, li assistiamo fino all'ottenimento del decreto di assegnazione e alla consegna delle chiavi. Attenzione! Sul mercato ci sono organizzazioni che propongono assistenza per l'acquisto all'asta, ma nessuna come Remax è in grado di dare un servizio completo e di qualità. Ci piace dire, il nostro lavoro inizia quando quello della concorrenza finisce. Noi non ci limitiamo a farvi comprare casa all'asta, ma vi faremo concludere un ottimo affare. Grazie! 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 Grazie!